C'è la bandiera nera dell'autoproclamato Stato Islamico dietro all'attacco kamikazza alla Manchester Arena. Un attacco che ha provocato almeno 22 morti, oltre 120 feriti, soprattutto ragazzini che avevano appena finito di assistere ad un concerto di musica pop. Il capo della polizia della città, Ian Hopkins, ha invitato alla calma anche se la situazione non è facile. Le persone vogliono delle risposte, ha detto, ecco perché è necessario restare uniti. Intanto è ufficiale, l'uomo che si è fatto esplodere nel foyer si chiamava Salman Abedi, 22 anni, britannico ma di origini libiche, già noto alle forze dell'ordine. Per ora non è dato sapere se abbia agito da solo o con il supporto di una cellula più ampia appartenente all'Isil. Un'indagine complessa in evoluzione con gli uomini di Scotland Yard che hanno effettuato una serie di arresti tra le persone fermate, tra cui appunto il fratello di Abedi. L'attentato, il più tragico in Gran Bretagna negli ultimi dieci anni, è già stato ribattezzato alla strage dei ragazzini. Ci sono ancora decine di dispersi, adolescenti e ventenni, di cui non si hanno notizie. In attesa di nuovi sviluppi, il paese è blindato, incrementate le misure di sicurezza ovunque, stazioni, aeroporti, centri commerciali, edifici istituzionali, dopo che nel Regno Unito è tornato il terrore. Grazie a tutti.